Feste con DJ internazionali, concorsi, cucina, fusion, nightlife, ma anche incontri culturali, teatro, presentazione di libri è un ospite d'eccezione il giovane ballerino Andreas Muller, vincitore quest'anno della trasmissione Amici di Canale 5. È il Torre Pride Village 2017, festa dell'orgoglio gay, organizzata da Mamma Mia, Boca e Beddy, che terrabanca sulla marina di Torre del Lago fino al 20 agosto. Tutte le serate iniziano con l'aperitivo al Beddy e proseguono al Mamma e al Boga, con musica, con appuntamenti, con giornalisti che presentano i loro libri, come il blogger Stefano Paolo Giussani, che presenta il libro Fa la nebbia. Poi sarà la volta del Cara Dance, un misto tra karaoke e ballo. Martedì la serata del Luna Park, poi Mister Maglietta Bagnata, ci sarà poi la presentazione anche di alcuni appuntamenti importanti, come il Gay Più Bello d'Italia, giovedì 17, la finale del concorso. Poi venerdì 18, la regista e drammaturga Francesca Talozzi sarà protagonista della performance teatrale multidisciplinare Walter Wendy Carlos. Grazie a tutti.